Da qui non si vede. Il cimitero è dall'altra parte della diga. Andiamo. Ehi, ma chi sono quei quattro là sopra? Nessuno. Rappresentano le quattro fonti di energia. Acqua, aria, sole e gas. L'emulsio no. La diga c'era prima dell'emulsio. Wow, è così vecchia. Non è rimasto niente di così antico. Vedo che è rimasto ancora qualcosa. E' un'altra parte. Speri delle locuste. Mi sono beccato un bel top secret. Ce n'erano decine. Forse anche centinaia. Non possono essere tutti infestati, vero? Beh, lo scopriremo in un modo o nell'altro. Ok. Arriveremo alla diga da quella torre di servizio. Sua eruzione di vento in arrivo. Sperghiamoci. Quanto tempo abbiamo prima che si scateni? Non molto. Sperghiamoci. Eliminateli prima dell'eruzione. Non c'è tempo per queste cose. Vorrei spingere più veloce. Capito? Trove in mezzo. Pronto all'azione. Pronto all'azione. Ritorna nella tua capsula. Fa tanto male. Sperbio raggiungiamo il letto del fiume. Sperbio raggiungiamo il letto del fiume. Non si spreca niente! Merda! È troppo tardi! L'erunzione di vento è qui! Resistiamo fino alla torre! Lì ci ripareremo! Sciame! Davanti a noi! L'erunzione di vento è qui! L'erunzione di vento è qui! L'erunzione è peggiora! Per proseguire dobbiamo combatterli! Mirate alla copertura! Ha funzionato! No! È così! Si! L'erunzione di vento è qui! L'erunzione di vento è qui! L'erunzione di vento è qui! La torre è poco più avanti! Non fermiamoci! Qualcuno mi aiuta! Arrivato! Arrivato lo Stormwall! Arrivato lo Stormwall! Continuate! 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 Ci siamo quasi! Sì! Dai! Dai! Forza! Tutti qui dentro! No! 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 Sì! State tutti bene? Sì! Penso di sì! Lo Stormwall è passato... Ma non possiamo più salire. C'è un'altra torre di servizio più avanti. Seguitemi! È un'impressione mia o sembra che tutto il pianeta stia provando a ucciderci? Non è una tua impressione. Pare che i COG incolpino i buchi nella crosta del pianeta per il maltempo. Prima erano le macchie solari, poi la distorsione atmosferica. Chi cavolo lo sa? Oh, uno degli aerei di Jin è precipitato. Vediamo che si salva. Ecco! Altro sciame in arrivo! Torname la tua capsula! Granata! Ok, down shot! Ok, down shot! Si! Granata! Ok, via libera, entriamo in quella torre. Il cancello è in cima. Ehi, mi serve una mano! Marcus, ho l'impressione che tu sia già stato qui. Tanto tempo fa, per una missione ufficiale dei GOG. Ah, non sembra divertente. Non lo è stato. Ok, forse abbiamo un problema. Allora lo ripuliamo. Ne arrivano altri! Attenzione, cecchino! Drone a terra! Cecchino! Morirai con voi. Ho un drone! Granata! Il cancello è chiuso. Possiamo aprirlo dal pannello di controllo. Volta per sei! Ciao! Grazie a tutti. Eccellente. Peccato. Forza, entriamo. Forza, entriamo. Wow, scommetto che nessuno mette piede qui dentro dai campi della guerra. Neanche per recuperare i coppi? Dopo la guerra non ci siamo preoccupati, morte. Ci siamo occupati di vita. Forza, da questa parte. Forza, 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 forza. Forza, 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 forza. Forza, 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 forza. Questo tornerà Udler. Quì indietro! Qualsiasi cosa sia, rimettilo nel suo buco. Qualsiasi cosa sia, rimettilo nel suo ruolo. Il fuoco il fuoco! Guarda che ci sono trovato! Parate qui al patto! Bella cosa! Ok, il bestione abbattuto. Bestione? Sembrava più una portaerei ambulante. Sì, ma andiamo. Quindi è lì che andiamo. Spero ci sia un ascensore. Ehi, Marcus, non vieni. Quando eri con i COG, che è successo? Questa diga dava energia all'ultima fabbrica COG. Sono arrivato prima che cadesse. Missione d'estrazione. Dozzine di Gears intrappolati dentro. Quindi? Come li hai salvati? Non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Le eruzioni di vento hanno ridotto male questa diga. Ok, cerchiamo l'ascensore di servizio. Saliremo più veloce e così. Sei molto a tuo agio qua dentro. A noi estranei servono le battaglie. Oh, e dai! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ecco l'ascensore. Guardate un po', non c'è corrente. Beh, caricando il circuito centrale dovrebbe azionarsi il generatore di riserva. Ci serve solo una turbina e un modo per... per farla girare. Forse l'ultima funziona ancora. La diga è asciutta, ma forse riusciamo a sfruttare il vento. Allora andiamo. Ecco la nostra turbina, ma purtroppo è bloccata. Per questo è integra. Ehi ragazzi, lo sciame ha ostruito gli incontri. Ingranaggi, ti pareva. Eliminiamo quello schifo. Non capisco cosa la blocchi. Venite a vedere qui. Lo sciame ha ostruito gli ingranaggi. Dovremmo aprire un varco. Qualcuno vuole occuparsi di quella membrana? Allora, metterlo a faginare. Ora si ragiona. Torniamo all'ascensore. Buca miseria. Una larva! Una larva morta! Basta, stronzate! Oh, merda! Sono ovunque! Ho un drone! Io ho proprio accogliato male, eh? Drone a terra! Ok, via libera. Oh, quanto li odio. Attenti, Bowser! Che cazzo! È per l'azione! Fatto! Li abbiamo distrutti. Vediamo se l'ascensore funziona. Ok. No, ma dai! Manca ancora la corrente nell'ascensore. Probabilmente i vecchi circuiti non hanno retto il picco di energia. Dobbiamo resettarli. Quindi dobbiamo dividerci. Generatori o ponte di comando? Quale preferisci? Scegli tu, James. Ok, Del, Kate, voi andate al ponte di comando. Noi ha i generatori. Kate, deduco che riconosceremo i generatori quando li vedremo. Sì, è una deduzione corretta. Ok, andiamo. Questa è un po' di comando. Ora vanno a me. James, fai ripartire quei generatori. Ti copro io. Il primo generatore è attivo. Servirà la massima copertura qua sotto. Davide, come te lo fa peggere? A tenere il nato a casa. Hai solo un ricordo. Alasso. Capito? Kate, non vedo una via d'uscita. Il commutatore è aperto. Un secondo e lo chiudiamo. Chiudo il commutatore. J.D., Marcus, via libera! Siamo a corrente quassù! Siamo bloccati! Sono a terra! Abbattiamo la torretta! Ora vanno a me! Ottimo. Munizioni. Torretta distrutta! Aspettate, chiudo il commutatore! Raggiungete l'altro generatore! Ce ne sono altri! Copriteci! Siamo finito! Raggiungete! Corroner! No! Raggiungete! Raggiungete! Goli! Dame il fuoco! Capito! Io e papà andiamo al ponte di comando e voi ai generatori, ok? Kate, cosa dobbiamo fare ora che siamo qui? Per ora copriteci mentre riazioniamo la prima serie di generatori. A che assomigliano i generatori? A... dei generatori enormi. Sono sempre utili. Sì. C'è uno! Oh, manch... Sì, Marco, scoprileci! Ehi, ti blocchi la mira! Torna nella tua cazzo! Guarda il fan! Torna da dove sei venuto! A tappeto! JD, chiudete il commutatore o non possiamo passare! C'è un interruttore lassù! Oh, guarda cosa ho trovato! Oh, guarda cosa ho trovato! Ah, bene! Munizioni! Oh, guarda cosa ho trovato! Trovate l'interruttore! Trovate l'interruttore! Ecco, chiudo il commutatore! Occupatevi dei generatori! Grazie, continuate a coprirci! E comunque avete scelto la parte più facile! Trovate il commutatore! Trovate il commutatore! Pianilo tu! Vecchia! Ho un drone! La torretta! Eliminatela! Torretta distrutta! Torretta distrutta! Siamo bloccati! Trova l'altro commutatore! Vado! Per me! Per me! Chiudo il commutatore! Per me! Occupatevi dei generatori! Grazie! Per me! 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 Fatto, dovrebbe andare Kate, perché la corrente non si riattiva? Non ti agitare, dalle un secondo e ripartirà Visto? La diga è di nuovo collegata Ragazzi, raggruppiamoci Ok, torniamo all'ascensore Attenzione, Sion in arrivo Un ultimale è tanto più forte Granata 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 Ok, torniamo all'ascensore Ok, torniamo all'ascensore di servizio Volevo dirvi che siete stati bravi prima Tutti quanti, ci oggi hanno fatto una cosa buona Formare voi due Stavo per passare a te Tuo padre ti ha insegnato a combattere a quel modo? Mia madre E mio zio, Oscar Era un ex-gear come te L'ha preso lo sciame? Sì Proprio così Mi dispiace tanto Era un'ascensore di servizio Beh, la corrente mi sembra attiva. Speriamo il vento soffia ancora. Non credo che sia un problema. No, finalmente l'ascensore funziona. Andiamo! Prossima fermata alla cima della diga. Vediamo cosa ci aspetta. Oddio! Io non ci credo. E dai, basta! Non mi piace. Andiamo. Da qui si cammina. Ok. Non pare che siamo arrivati a metà. Ehm, proviamo a non disturbare niente. Grazie. Guarda, che c'è? Avanti! Perché l'hai detto? Un carrier! Non di nuovo! Cazzo sì! Pronto all'azione! Granata! Ok, distrutto. Non si spreca niente! Questo tornerà utile. Non è stata una mossa saggia! Non parlo mai più! Ok, cerchiamo un altro modo per arrivare in cima. Il che significa che dobbiamo andare all'esterno. Perfetto, sono sicuro che il tempo ci aiuterà. Ovviamente, ero sarcastico. Se dobbiamo uscire questo, mi sembra il posto perfetto. C'è una doppia serratura. Due interruttori. Ehi, non ce la faccio da solo! Allora, come procediamo? L'unico modo per passare è bloccandola! Forza, andiamo! È stato facile. Meno male, perché dobbiamo farlo di nuovo. Oh no. Droni! È ora di farla finire. Droni morsi! Droni! Droni! Ah, sì! Occasione in corso! Cioè, sei in ritardo, ho un appuntamento. È tanto più forte! Non sono più un problema. Ma mi stai... Ci deve pure essere un modo più facile per arrivare in cima a questa diga. C'era, si chiama ascensore. Ah, giusto. Passiamo da quella porta. Queste le prendo. Queste le prendo. Anche questa con doppia serratura. Marcus, quanti Gears erano rimasti intrappolati in questa diga? Qualche decina, o almeno così mi hanno detto. Pare che fossero molto più che qualche decina. Mi sorprende. G.O.G. hanno sempre mentito sulle notizie nocive alla loro reputazione. Eh, non mi è nuova. G.O.G. 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 Sera secco! Prendi! Brune a terra! Oh, ciao ciao! Sono morto, e attenti a dove mettete i piedi. Prendo io! Guardate cosa ho trovato! Piste le pelle! L'altro sciame è in arrivo! Prendi la di questo! Non è finito! Attenzione alle catene! Dai su! Guarda un altro saio! Prendendo più forti! Sì! Non è morto! Buon avanto a me! Mi ha scappato, scusami! Oltrone! Guardate cosa ho trovato! Oltrone! Sì! 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 Non sbagliato! Ganata! Attenzione, le terreni! Guarda un altro Saiyan! Mi sta vendendo più forte! Ganata! Brune a terra! Marching! Marching! Ehi! Stava più di mezzo! Ora va a nuova! Ehi! 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 Ok! Streghiani! Distrutto anche l'ultimo Ok, troviamo una via d'uscita Continuiamo a salire È positivo, no? Finché saliamo ok, arriveremo in cima al costo della vita Hai capito che voglio dire? Grazie a tutti Pare che dobbiamo uscire un'altra volta Qualcuno mi aiuta? Questa dovrebbe andare Come non detto Ehi, se usassimo la turbina? In che modo? Sentiamo Saltandoci sopra Sarà come arrampicarsi sugli alberi da piccoli Ah no Io non l'ho fatto Guarda Hai visto? È facile Ok Ok, andiamo Roba da pazzi È una ragazza interessante Buon parte Indietro, indietro Papà, vai Andate, vi raggiungiamo Va bene, papà Utilizziamo queste scale Hai altri assi nascosti nella manica? Non in questo momento, no Bene Oh, guarda cosa ho trovato Sono anche quassù Per molto Distruggiamoli Grazie 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 Ehi, c'è uno snatcher! Controle! Ehi, c'è uno! Ria-nima-mi! Chi vedo! L'ha preso qualcuno! L'ha preso lo snatcher! 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 Sono pronto! Ha ha ha! Stiussono grossi e prima si afflossano! Beh, sai... non avevo mai capito il senso di queste parole... Entriamo in questo tubo! Finalmente siamo quasi arrivati in cima! E poi scopriremo che cosa ci aspetta, giusto? Sì, qualcosa del genere! Ecco! Queste le prendo! Questo tornerà unico! Non Credo il Magee è un problema Grazie. Ehi, mi serve una mano. Guardate, niente sciame. Li avremo uccisi tutti. Guarda, faccio il rompiballe e dico, non credo proprio. Ho imparato una cosa combattendo le locuste. Il fatto che non le vedi non significa che non ci siano. Sbrighiamoci ad arrivare in cima. Sbrighiamoci ad arrivare in cima. Sbrighiamoci ad arrivare in cima. Finalmente, la via giusta per arrivare in cima. Andiamo! Cosa c'è? Bell, non guardare giù. Non lo farò. Sul serio, è meglio se non guardi. Ok, non è che in realtà tu vuoi che io guardi giù. Forza, ci siamo quasi. Oh, porca vacca. Oh, porca vacca. Sì, il concetto è chiaro. Fanculo, andiamo giù e basta. C'è un altro modo di farlo. Cioè, cercando aiuto? Lei non può aspettare. Ehi, se non fermiamo queste cose, allora moriranno tutti nel raggio di mille miglia. Non solo tua madre. Quasi tutte le persone delle quali mi importa sono già morte. Te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Non credo a quello che sto per dire. Papà, hai modo di chiamarlo? Non da qui. Se facessimo da lì? Può funzionare. Andiamo prima che l'eruzione diventa peggiori. Se il tuo amico non può aiutarci, tornerò qui. Anche sola, se necessario. Se lui non può aiutarci, allora noi saremo al tuo fianco. Scherziamo? Ora dobbiamo sfuggire a un'eruzione di vento. Se passiamo la diga, ci salviamo dallo Stormwall. Ciao! Ciao! Grazie a tutti